Il Salone Nautico secondo me, beh, innanzitutto una vetrina per il Salone Nautico, l'essere a Venezia, però insomma stamattina mi sono trovato col presidente della Fiera di Genova e insomma dal 21 al 25 aprile ci sarà il Salone di Genova qui a Venezia, perché sarà il Salone di Venezia, poi non so come lo chiameranno, insomma per noi va bene comunque e pensiamo che Venezia voglia rilanciare l'industria del diporto, l'industria nautica italiana soprattutto. Per cui è un onore, è un onore insomma per Venezia e anche per la Fiera di Genova, perché è una scommessa che vogliamo vincere entrambi per il bene comunque della nostra capacità di saper fare economia. Il Salone Nautico di Genova è uno dei grandi simboli di manifestazioni ancora vive e direi anche bellissime anche come esperienza di visita. Riuscire a fare qualcosa di analogo, ovviamente di diverso, ma di analogo a Venezia per me è una sfida molto interessante, rimettere Venezia al centro del panorama dell'industria nautica è una bella sfida. Ci recuperiamo l'Adriatico. Mi sembra strano che ci si stupisca di consonanze fra istituzioni. Lui rappresenta il nostro governo, per cui io sono filo governativo, lo sono con Renzi e lo sono col presidente Zaia. Credo che tutte le persone per bene devono convergere nell'interesse collettivo delle persone. Noi dobbiamo riuscire a dare un servizio ai cittadini, dobbiamo dare un'Italia migliore. Per farlo sono disposto a allearmi con chiunque e se questo serve per trovare posti di lavoro per i giovani, per rilanciare Porto Marghera. Il primo che mi ha dato fiducia è stato Renato Brunetta e ancora oggi lo ringrazio. La realtà è che ci sono persone intelligenti, possono avere vedute diverse su alcune cose, ma l'importante è riuscire a convergere per il bene collettivo. Ci sta la polemica, ci sta tra di loro le forze politiche, fa parte della dinamica democratica questa, ma quando andiamo di fronte ai giovani, al futuro dei giovani, non ci può più scherzare. Cioè alle famiglie bisogna smetterla di dire stupidaggini, di fare polemiche inutili, dobbiamo parlare di cose concrete, dobbiamo rifare, riaprire le fabbriche, dobbiamo riaprire i posti di lavoro.